La coesione sociale, l'educazione dei giovani, il fenomeno delle migrazioni e l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso. Sono stati alcuni dei temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il re Filippo e la regina Matilde ricevuti in Vaticano. La sala stampa vaticana è inoltre reso noto che durante i cordiali colloqui sono state rilevate le buone relazioni bilaterali tra il Belgio e la Santa Sede, oltre ad alcune problematiche di carattere internazionale con speciale riferimento alle prospettive future del continente europeo.